E adesso è il turno di Valentino, Valentino com'è la serata? Bella, bella serata, io sto qui perché mio fratello ha facciato il compleanno, bella serata però L'hanno trattato bene, sì, tutto buono? Sì, sì, tutto buono, la mangio è buonissimo Bene, e adesso state ballando? Che stai facendo? Adesso stanno levando i tavolini, prendiamo qualche bottiglia, facciamo serata Donne? Sì, io sto freddo, siamo tutte coppie Ok, ok, un'altra domanda Insomma, va bene, compiando tutto bene, tutto a posto? Tutto bene, la serata è bellissima, ci siamo divertiti, bella serata Perfetto, allora vi lascio continuare la vostra serata Grazie